SINISTRA 4 SINISTRA 4 più, SINISTRA 4 più, per destra 3, per destra 3, destra 6, al muro sinistra 3 sporca, 3 sporca 50, 3 sporca 50, destra 3 chiude sporca, in sinistra 2, occhio interno, occhio esterno, in destra 3 sporca, 30, sinistra 4, 50, sinistra 4, 50, destra veloce, 50, sinistra 3 più, ricorda questa, 50, attenzione, attenzione, destra 1, incrocio, destra 1, incrocio, 100, Scicante entra a destra, sono larghe e destra 4 chiude, 5 più, e destra 4 chiude, 100, 4 chiude, ah, 100 al muro sinistra 5 più al muro sinistra 5 più in sinistra 4 in sinistra 4 in destra 4 più lunga 50, attenzione al cartello sinistra 2 più 50 al cartello 2 più 50 ai birri destra 3 meno in attenzione, attenzione, sinistra 1 gira attenzione, attenzione, sinistra 1 gira destra 20 destra 5 in sinistra 6 attenzione, destra 4 attenzione, destra 4, è lunga lunga 50 vai, scappa lì ma stessa un'altra fornata ma stessa è nella macchina non si, non posso ah, tu non posso no, non so non si il muro sinistra 1, tornante 50 destra 6 attenzione a rail diventa 3 attenzione a rail diventa 3 in sinistra 6 30 attenzione sinistra 3 intornante destra 2 intornante destra 2 scivola non tagliare 30 sinistra 3 in sinistra 3 chiude in sinistra 3 chiude in sinistra 3 chiude 50 destra 5 tocca gli pulsanti giallo ci arrivi come è un motore da una motocicletta stanno facendo la palata chunga clau chunga 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 Grazie a tutti.